Il casco del Dovi, vediamo di riuscire a guadagnarsi ancora un po' di simpatia, visto che ho smesso di fare le recensioni, cosa con cui avevo iniziato proprio per questo motivo qua, perché le facevo veramente e non a tutti piaceva. Va bene, parliamo del discorso caschi. Ogni tanto qualcuno che ha sonnecchiato negli ultimi vent'anni oppure che non sa come funzionano le cose nel mondo delle corse, se ne esce con degli scoop che sono la scoperta dell'acqua calda, anzi tiepidina. Per quanto riguarda i caschi, diciamocelo, non è una novità quello dei brand mascherati. È una cosa ricicerta fuori con Dovizioso in occasione del testo con Aprilia, dove tutti si sono accorti che oltre ad una grafica molto bella dedicata a Red Bull e il suo sponsor personale, era comparso anche un marchio Shoei invece del solito Suomi. Una volta, ma fino a pochi anni fa, quando il gap fra le varie aziende era evidente, insomma a marchi blasonati e non, succedeva spesso questa cosa qua. Ricordiamo un Max Biaggi che usò un casco giapponese mettendogli sopra un adesivo BF, azienda fra l'altro anche abbastanza buona che lo sponsorizzava, dopo essersi quasi schiantato per via della visiera appannata causa condensa. C'è una roba che nelle foto dell'epoca si vide tutta bianca e pralinata, insomma si vedeva da metri e metri di distanza, non c'erano i social, se ne parlò il giusto, l'attenzione al marketing commerciale era quella che era e finì lì. Lo stesso Melandri, in un'intervista a me, forse una delle prime interviste che gli ho fatto, mi raccontò, quando facevo Mr. Helmet, che rompevo il cazzo su altri temi, mi raccontò che da testimonio al Nolan da tanti anni, che insomma l'azienda fece un prodotto nuovo un po' ambizioso, in una giornata di maltempo si appannò un po' e lui scelse momentaneamente uno show. Poi però va detto che la casa di Brembate di sopra risolse così bene il problema e si attrezzò così bene da essere diventato un riferimento da questo punto di vista, quindi con una squadra corse, un team corse dedicato al top e con dei prodotti che mai più si sono appannati, ma quasi neanche nello stradale, cioè una roba quindi che è una lezione che è servita moltissimo. Nello sci, questa roba qui, succede molto spesso, anche in virtù del fatto che i problemi di freddo, condensa, nebbia, appannamento sono all'ordine del giorno sulla neve, no? E quindi sono tantissimi gli sciatori che usano caschi di un tipo, mascherati con occhiali di un altro tipo, insomma una roba che succede sempre. Cosa che successe anche a Lorenzo, che dopo il suo passaggio da Nolan Xlight a HJC mi pare, durante un giro di allineamento in notturna ebbe un problema con il suo casco e mise in croce i coreani in mondo visione, perché oltre a averlo segnalato e essersi lamentato con fare molto ispanico durante il giro di allineamento, poi fece delle dichiarazioni, insomma la cosa servì, perché adesso l'azienda HJC ha un racing service molto più attento e quindi di livello molto alto, e quindi di persone che alla fine hanno imparato la lezione. Ce ne sono tanti di casi così, simili o affini, anche di mascherimenti, poi scoppiazzamenti, vicende ambigue, quindi l'azienda Suomi, in un periodo in cui la proprietà era di un'altra società, fu citata da Arai, mi pare, per aver copiato un modello, lo Spec 1 era una roba, sì, mi pare così, e la spuntò alla casa italiana, però insomma si vedeva che il casco era molto simile, e non si poteva negare. Molti di questi piloti sembrava avessero problemi e non gradissero molto l'acqua, ma poi anche lì l'azienda migliorò, il service era fatto in superbike da un furgone di una persona che conoscevo molto bene, lo vedevo molto bene lavorare, quindi ci furono delle visiere d'acqua molto migliorate e Suomi in superbike ebbe il quasi monopolio. Poi la casa che era all'epoca in verigo è passata in altre mani, produzioni asiatiche, sono cambiati poi i regolamenti, l'omogolazione delle calotte, insomma è un tema da aprire a parte, quindi qualcuno si è trovato fuori fisce con le omologazioni e quindi la necessità di chiedere ai piloti di firmarsi il contratto, però di correre con un altro prodotto in attesa di risolvere. Diciamo che queste sono comunque sempre situazioni transitorie, bene o male, anche se certe transizioni durano qualche annetto. Alla fine insomma con tutte queste nuove aziende cinesi oppure asiatiche oppure di altri paesi con una tradizione racing meno approfondita o con brand che sono solo nomi e non corrispondono ad aziende, il gap si è nuovamente ripresentato, perché insomma fare i caschi, specialmente quelli da corsa, non è una cosa che ti puoi inventare da un giorno all'altro, insomma le differenze si vedono. Veniamo ai piloti, come la prendono i piloti? Allora quasi tutti sono lì per i soldi, cioè un pilota che tiene la sicurezza è, non dico uno simuro, però insomma quasi, insomma poco ci manca, un rider firma per soldi e poi vuole che il casco funzioni, oppure chiede delle garanzie, però alla fine insomma gli interessano più che altro i soldi, quindi caldo estremo, freddo, pioggia, nebbia, insomma, a parte qualche caso di fedeltà conclamata, si pensa ai soldi e al fatto di vederci qualche cosa, vederci molto bene. Non tutti pensano all'efficienza in caso di impatto, un pilota non pensa mai che avrà un impatto così grave da avere problemi, questo è il normale, altrimenti non farebbe il pilota. Insomma le aziende veramente leader in questo settore sono le aziende giapponesi, sappiamo quali sono, e a meno di casi eclatanti non sono molto generose nella contrattualistica con i piloti, forniscono i piloti di un grande prodotto, a parte qualche caso eccezionale di campioni, molto molto forti e blasonati, non pagano moltissimo, perché sappiate che le repliche alla fine non si vendono, sono una grande exposure, sono una grande visibilità per l'azienda, ma non sono la fonte di guadagno principale di un'azienda a livello di catalogo. Per quanto riguarda l'Italia invece, insomma i caschi li sappiamo fare, a patto che siano fatti da noi, insomma i marchi li conosciamo, sapete quali sono. E poi ci sono aziende di vari livelli che progrediscono, è innegabile, cercano di colmare il gap, ma che insomma sono ancora un po' lontane dalle standard di qui sopra, qualche azienda europea, qualche azienda cinese, qualche azienda indonesia, insomma va bene, le solite situazioni. Quindi succede che i piloti firmano per un brand che gli dà i soldi, perché è emergente, perché vende milioni di pezzi nei mercati, ma poi indossano un'altra cosa. Oppure firmano per un brand e basta, e indossano dei caschi che insomma agnavano. Roba improbabili. Date un'occhiata ai rucchi se vedete cosa indossano, nelle categorie minori o nei campionati nazionali, addirittura c'era un'azienda che aveva fatto il debutto nelle corse, non aveva neanche la visiera piana, gliel'avevano fatta una, insomma è una situazione un po' così. Diciamo, quello di mascherare il marchio è una roba brutta, ma correre con un prodotto non performante è peggio. Quindi non dico benvenga, ma quasi. Insomma questo spiega perché un pilota come Valentino Rossi è stato visto a Misano in scooter con una Rai brandizzato a GV, cioè ma che non li fa a GV i caschi Jet, oppure in auto con altri caschi di altre aziende, un po' dissimulati, ma insomma del resto se qualcuno pensa che un nove volte campione del mondo indossi un casco di serie, insomma un po' ingenuo lo è. Oddio, uno ci crede, perché io ho visto aziende italiane che danno al pilota lo stesso casco che vendono, è vero, però uno ci crede un po' di più se marca e modello corrispondono, a parte va bene i guanciali, insomma i guanciali, la parte della visiera e tutte queste cose qui, allora va bene. Se il casco e la marca corrispondono, uno si fida di più, però se uno già vede che il suo pilota per andare a passeggio usa un altro marchio, insomma magari qualche dubbio se lo fa avvenire, è chiaro, no? Poi ognuno la pensa come vuole. Insomma, i casi sono decine, esistono da sempre e non finiranno mai. Quindi ora veniamo al caso specifico che ha scatenato nuovamente tutto quanto, ovvero quello di Dovizioso. Quindi è scaduto il contratto con Suomi, quindi sono finiti i soldi, e Dovizioso ha continuato ad utilizzare il suo Shoei, quindi mostrandosi finalmente, mostrandone finalmente il marchio. È un po' come uno che rompe con la moglie e quindi è finalmente libero di uscire allo scoperto con l'amante. Più o meno così. Non è bello, però tant'è, insomma non c'è niente di peggio di un rapporto commerciale che finisse, ovviamente. So già che qualcuno si infastidirà per questi temi, però in realtà se ho detto cose non vere, o se qualcuno sente la necessità di puntualizzare o smentire, arricchire, integrare, io mi scuso, sono qua, e quindi sono a disposizione per rettificare, integrare, aggiungere, correggere, anche a beneficio di tutti. Resta sempre il dubbio di quello che è stato scritto anche da altri, però insomma, siamo qua, ognuno per fare il proprio lavoro e quindi io non penso che un'azienda sia irrimediabilmente danneggiata da un singolo episodio, insomma succede, ognuno se la vive come gli capita, insomma sono gli alti e bassi della vita lavorativa. Iscrivetevi al canale, ho imparato a dirlo, e vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao da Mr. Hermit.